In questo momento troppo alla fine del passaggio Una lista 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 Un'immagine nazionale Ecco noi signor signor AJ Martin Di direzione di più bene E' quello nostro valore Di segno della stagna Vi sono stati un'immagine che si è stato con la nostra Grazie. Cosa ha fatto il protagonista dei film? Io vi ho visto qui. Ok, ha fatto il protagonista. Ok. Non è esatto. Ho fatto un ruolo importante, non so, ha terminato la quarta minuta del film? Sì. No, no, no. No, 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 no. Cosa hai fatto per esempio? Hai dato parte in mia situazione? Sì, cosa hai fatto? Gatti in diretta? Non posso una parte parlata del film. Cosa vuoi parlare? Ci sono diversi tipi di attori. Ci sono gli attori protagonisti. Ci sono gli attori con quattro parlate. E poi ci sono gli attori senza quattro parlate che sono gli extra. Quindi direi quattro. Ok. E' un punto buono. Sì. Tra il livello è molto staccato. E' un punto buono. E' un punto buono. E' un punto buono. E' un punto buono. Esattamente. Ok. E mi riesco di fare un favore di fare una compazzata. E' un punto buono che si vede. Cioè il produttore è supremo. e non. Un punto buono. Perché, e questi attori hanno fatto... ...chè anche il volume che hanno fiduatively letteralmente... ...el ringraziamento delitto. E mi pe secondary anche il ruolo180O. Grazie.